Ciao a tutti, nella videorecensione di oggi vi parlerò di questo libro di Gianluca Lioni, La processione dei fantasmi, edito da 360. È un giallo ambientato nell'isola della Maddalena nel 1864. La morte del proprietario dell'Emporio del paese suscita scalpore. Questo perché pochi giorni prima lui aveva ammesso di aver visto Sareula. La Reula è una leggenda che alleggia in tutta la nostra isola. Si dice che chiunque veda questa processione e all'interno di essa non abbia un parente prossimo, rischia una disgrazia. Quindi come potete immaginare c'è chi indaga da un punto di vista razionale e cerca di scoprire se questa è stata una disgrazia, un malore oppure un omicidio e c'è chi invece daretta alle leggende e alle superstizioni. È un giallo molto interessante e il contesto storico, quindi Garibaldi, Caprera, le visite dei vari rivoluzionari e delle persone che lo sostengono è molto interessante e ci fa capire qual è il clima quasi di scontentezza che alleggia sia all'interno della regione che all'interno della nazione Italia. Vi lascio, vi ricordo, la processione dei fantasmi e vi aspetto alla prossima recensione. Vi eccomi per parlarvi di un thriller psicologico, Romy Hausman, la mia prediletta, un esordio tedesco davvero molto molto interessante. Lena scompare e dopo 14 anni viene ritrovata sul ciglio di una strada una ragazza che potrebbe corrispondere alla sua descrizione. Insieme a lei viene ritrovata una bambina che somiglia tantissimo alla ragazza scomparsa, ma quando i genitori di Lena non riconoscono nella loro figlia la ragazza vittima dell'incidente, tutto assume dei contorni inquietanti.